Nata a Spalato si trasferisce ventenne a Roma, per tentare la carriera nel mondo del cinema. Dopo alcuni provini debutta davanti alla cinepresa nel 1953. Diretta da Gianni Puccini, in una piccola parte, poi sarà Antonioni a sceglierla per due film. Nel 1955, Maner Lualdi la scrittura per la sua compagnia teatrale dove recita per due stagioni. Successivamente sarà con Ugo Tognazzi e nel cast della commedia musicale di Garinei e Giovannini. Un paio d'ali, avrà modo di recitare anche in qualche commedia televisiva della RAI. Dalla fine degli anni 50. Per poi retitarsi definitivamente alla metà degli anni 60.